Due veri briganti che terrorizzavano gli abitanti della Valle dell'Aniene, i due uomini residenti tra Cervara di Roma e Subbiaco, rispettivamente di 56 e 38 anni, avevano messo su un collaudato metodo per estorcere denaro ai commercianti e agli abitanti del luogo. I malviventi erano soliti terrorizzare le loro vittime con armi da sparo, compreso un fucile a canne mozze, rendendosi anche responsabili dell'uccisione di capi di bestiame al fine di macellarli clandestinamente e venderne le carni in maniera illegale. Inoltre i due hanno depredato ristoranti, ville e bait delle due località, rubando oltre a gioielli di valore anche utensili per falegnameria, gasolio, motoseghe, gruppo elettrogeno e tagliaerba. I due arrestati erano anche custodi di alcuni residenze di Campaegli, ricercandone il monopolio ed il controllo assoluto degli esercizi commerciali e delle strutture alberghiere, imponendo anche con minacce i lavori di manutenzione delle varie residenze che dovevano essere effettuati da loro o da persone compiacenti.